Il mezzo che ha dominato gara 1, Canam del team Motoworks di Zimmerman, del giovane pilota americano che si appoggia per l'Italia, svolgerà tutto il campionato italiano, è seguito in pista dal team Galizzi. E vediamo al team manager della DVT Motoworks, che è il team di Zimmerman, è la persona che ha deciso di seguire il campionato italiano. Ciao, qual'è il tuo nome? Mi chiamo Ty Zimmerman. E perché hai deciso di venire in Italia e di provare a compitizione in questa campionata? Johnny Leach, il proprietario del DWT e della Canam Race, ha dato l'opportunità di portare Dylan e vedere come si può fare, e siamo entusiati di essere qui. Sì, abbiamo pensato che la competizione sarebbe buona qui, abbiamo pensato che il Montevini sarebbe più veloce, siamo qui solo per dargli una competizione, tenendo un divertimento. E anche Zimmerman, vediamo che è veramente veloce, e il team DVT in italiano utilizza i pneumatici DVT, e vediamo che a differenza dei pneumatici di Nicola Montelvini, vediamo che questo mezzo Canama utilizza ovviamente i pneumatici DVT. Zimmerman, questa ATV è una davvero preparata o è davvero vicino al veicolo standard? No, è modificata. È una delle nostre vecchie biciclette che abbiamo venduto qui. originally intended on selling it, and when the opportunity come up for Dylan to come over and race, we decided to keep the bike and let him race this bike. Oh, grazie. Oh, grazie. Zimmerman, questo ATV, hai cercato di fare più modificazione nei passi italiani? Hai pensi di lavorare nel ATV, step-by-step, e per ottenere più potere, per l'engine, nel prossimo passo, per la prossima... Per la prossima rata? Sì. 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 Siamo arrivati due o tre giorni prima di ogni rata, e prepariamo la bicicletta. Siamo facendo qualcosa che necessario, se abbiamo bisogno di cambiare il motore, o cambiare alcune parti, siamo qui un po' di giorni prima, quindi possiamo preparare la bicicletta e preparare per la prossima rata. E' davvero difficile per il tuo team di lavorare? E' una grande distanza? Sì. 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 La differenza di tempo è quello che abbiamo sfruttato. E' molto difficile andare qui e cambiare la scelta di tempo in un giorno o due. E ricordiamo che solo due settimane ogni rata. Quindi è un tempo molto短ale. E Dylan fliava a casa e rata la prossima settimana in gli USA. Ah, sì. Quindi è rata in due seri. Signori, io direi che per ora è una buona cosa, ricordiamo che questa ATV fa la prima posizione in Gara 1 del QX1 Pro, professionale. E fa una rata incredibile con il Conor Montalbini, con Ioao Silva. e tutta la rata per la prima posizione, la seconda e la terza posizione. E' una davvero incredibile e difficile rata. E poi, ve lo tradico in italiano, sul traguardo è passato il numero 49, Zimmerman, vincendo la competizione e mettendo pressione agli altri due avversari che hanno incontrato noie tecniche, hanno incontrato noie di guida all'ultimo giro. Comunque ricordiamo, primo posto Zimmerman, secondo posto Nicola Montalbini e il primo posto è di Zimmerman sul Canam Motorworks Team DVT. Zimmerman, vediamo un'altra intervista per la seconda rata. Grazie, grazie, grazie.